a tutti di marco di coltelleria scintilla oggi vi voglio presentare il nuovo mkm macro 1 e 2 si distinguono da il profilo della lama lama drop point e lama ship foot sono quattro modelli tutti con impugnature in g10 come in questo caso micarta verde naturale fibra di carbonio o scheletrata hanno una entrambi le versioni una lama da 73 mm per una lunghezza totale di 166 mm in acciaio m390 finitura stonewash per lo spessore di 4 mm tutti con un peso che varia tra i 50 grammi per lo scheletratto e i 66 micarta g10 fibra di carbonio vengono forniti tutti di serie con un fodero in pelle magnetico optional per tutte le versioni per entrambe le versioni la versione optional fodero in kydex viene fornita con l'attacco uti clip l'acciolo in cuoio e due passantini ripeto il fodero in kydex è optional per quanto riguarda il porto con fodero in cuoio magnetico eccolo qui vedete c'è un magnete uno può sfilare il coltello il fodero resta si vuol togliere tutto si tira via semplicemente il fodero e se lo inserisce spero che questo breve video vi piaccia ciao a tutti alla prossima da marco